Ciao ragazzi, benvenuti su Yo-Kai Watch Gakuen Il nome intero sarebbe molto più lungo, ma davvero tanto più lungo, quindi eviterei di ripeterlo ogni volta Ad ogni modo, abbiamo già l'ambizione che dobbiamo affrontare quest'oggi già appuntata, quindi non perdiamo tempo e dirigiamoci verso la meta Stavo dicendo dirigiamoci verso il destino, ma non ha senso E' sì vero che ho trascurato un bel po' questa serie, starei trascurando anche Snack World, però lo sapete che Snack World viene caricata una tantum Oramai poi è finita la serie, quindi diciamo che non ho proprio molta voglia di fare gli extra Li farò, li farò però con calma Dobbiamo piazzare qui l'N Beacon che... ok, sembra vada E quindi... niente, aspettare No, dobbiamo piazzarlo anche in altri punti Ah certo, anche all'entrata, mi pare ovvio Passiamola anche qui Bene, abbiamo anche altri punti Sì, probabilmente dentro perché qui fuori è un punto un po' strano dove metterlo Dico che vado semplicemente a dormire Anche se credo di dover uscire nel cuore della notte, non ne sono molto sicuro Però vediamo se magari ha dato risultati l'N Beacon Bene, andiamo a controllare allora l'N Beacon se ha fatto qualcosa Ecco qua l'altro Oh Vediamo un po' se ha raccolto qualche informazione Attenzione Arriva... ah! Ah, mi sa che ha fatto cadere la... oh Amani... Amana? Amana Elena? Eruna? Eruna, non Erina Però... oh Dio Erina al limite Eruna? Elena? Un po' strano Ma è semplicemente un serpente A meno che quel serpente non è ciò che gli permette di trasformarsi effettivamente Perché lui era luminoso Quindi o semplicemente stava a indicare l'oggetto che era caduto Ma mi sembra molto strano Potrebbe essere che faccia parte della sua famiglia E appunto per quello ha il marchio maledetto Insomma, è una storia un po' lunga con lui C'è qualcuno che sa la vera natura dei Beacon Ed è Emma Però quella ragazza che ha sbattuto contro di noi Contro... ebiyama Non può essere una ragazza a caso Non può assolutamente C'è qualcosa sotto Ah, è proprio qui Ciao Avanti, dicci tutto Emma Allora, Emma non va nello stesso dormitorio che hanno gli altri alunni Ma ha una specie di villa Ok, allora Siccome Emma esce dalla scuola per andare a casa È molto strano che non ci siano stati dati raccolti dal Beacon Non è umana È un'aliena Quindi sarebbe un'aliena? Questa è proprio una stupidaggine L'NB con avrebbe reagito se lei fosse stata umana Ma non l'ha fatto quindi Oh cavoli Mi sa che non funzionano Dimmi che non è vero Oh no Ha fatto piangere Ma Emma dai io Ah, yeah, yeah Allora, è un po' strano però il discorso Ah, no Allora, gli NB con dovrebbero servire a stanare gli alieni Ma quindi hanno reagito solo Solo a Emma hanno reagito Perché lei Ha Emma dentro di sé Ecco perché Quindi non è che servono a stanare Quelli che non hanno Un orio o uno yokai dentro di loro Perché sarebbe stupido E quindi non serve a identificare gli umani Ma a stanare quelli che hanno Che sono alieni O che hanno A questo punto uno yokai dentro di loro Come appunto Ecco, anche lo stai dicendo Quella era Emma è grande Però a quanto pare si è dimenticata di quello che è appena accaduto E quindi Buona così Ma allora Se non è lei Chi è? L'alieno? Attenzione però Ah, lei quindi è Tipo quella del club Del Del Dell'astrofisica Non lo so Come si chiama sto club Ah, noi chiediamo aiuto a Erna Perché appunto lei no Essendo che è un astrofisico Insomma Esplora lo spazio Potrebbe darci informazioni effettivamente Se ha mai visto alieni Noi volevamo andare a chiedere aiuto a lei Se avesse visto degli alieni Ma in realtà Sembra che sia lei l'alieno Eh, ma che state dicendo? Questo è un N-Beacon E identifica gli alieni E Perché gli alieni hanno Una specie di Segnale N Che esce dal loro corpo E a quanto pare lei è investita di questo segnale N E quindi Potrebbe essere un alieno C'è solo un modo per scoprirlo Distruggiamola No Aspetta Lei ha potuto toccare il serpentello Insomma Il portachiavi Di Ibi Yama Ok quindi lei Appunto serve Dice che lei è indispensabile Per il dipartimento di astrofisica Perché può identificare gli alieni Quindi aspetta Lei Sarebbe tipo Ed infatti è scomparsa È un alieno Ah attenzione Sta qui eh Ha la missione proprio Vabbè Facciamola Wow Quattordici Fulmine Questa è bella tosta Allora Non sarà facile Basta Con sto coso Cioè anche Basta Con sto coso Questo cos'è Big Blue Ora Che bisogna fa Omega Shir Ga Ma che cosa Che cosa è successo Che cosa è successo Quell'attacco Quell'attacco era Incredibile Volevo rimettere il mago A dire il vero Ti insegui questo attacco Vedi Fa male Fa male Fa male E vabbè però Accidenti Ma che è sto attacco Ehi Ehi Ma che è quell'attacco Raga E vabbè Allora Ce l'ha con me Ce l'ha Vabbè Sì Si glitcha Mentre si carica Non ce la facciamo Ci vorrà un po' Ma Andato E un altro alieno Spero Spero Più che altro Penso Non spero Un po' lo spero Ma credo Più che altro Che questo sia L'ultimo alieno Di sti cosi Maledetti Penso che sia proprio Così ragazzi Eh Lo penso proprio Ah si Lo spera qui Meno male Meno male Era per il livello Meno male Se non la prendevo I cavoli I cavoli amari Ma come facci 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 Tu sei Ah Lei ci ha solo Voluto mettere Alla prova Oh no Oh no Oh no Eh si è arrabbiata Il miracle prisma È lei Il zemachia Dimmi che è lei Il zemachia Ti prego Il zemachia E lei è il Zemachia E va bene così ragazzi Va benissimo così Mahou Shoujo Eh si Da streghetta Mahou Shoujo Uh è forte Accidenti Ah però non so se dovremmo sconfiggerla Io non ho capito veramente se il Zemachia Sì ti prego Sì ti prego Sì ti prego ora sì Sì ti prego ora Lui è Michettio Vediamo un po' che combina In teoria Michettio dovrebbe essere buono Visto che sono Visto che è la fusione Di tre nostri Onryo Sì sì lui ce la Ce la con lei ce la O non è abbastanza forte da controllare La fusione oppure deve esserci Qualcuno che possa Effettivamente scatenare la forza necessaria A farli fondere Io non seguo l'anime quindi Non ho idea del funzionamento Di Michettio Perciò faccio solo congetture Ad esempio Ora che il Zemachia se n'è andata Non c'è più la forza necessaria A tenere in vita Una forma altrettanto forte come quella di Michettio E quindi si sono defusi Però almeno abbiamo visto Michettio Per la prima volta Michettio poi Vabbè sì Io pensavo un altro Yokai ma Ci arriveremo a quello Yokai Ragazzi E anche questo episodio Può concludersi qui Pensavo sarebbe andato peggio Perché in genere Quando affronti un Big Black Quello era ancora più forte Di Big Black È stato in realtà più facile Quindi sono molto sorpreso Di questa cosa Però va bene È anche vero che noi ci siamo potenziati Con i nostri personaggi E tutto il resto Non ho giocato per niente Dall'ultima volta Quindi siamo rimasti uguali Però ragazzi Il video termina qui Io spero che vi sia piaciuto Yokai Watch Da qua Tornerà ovviamente in pianta stabile Vi ringrazio Per aver visto il video In descrizione ovviamente Vi ricordo i link per Instagram E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye